Io sono candidata perché penso che l'Europa ha bisogno di persone che abbiano competenze e che abbiano competenze su questioni che riguardano la vita degli uomini e delle donne a partire da quelli che stanno nel mezzogiorno. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che sia più inclusiva, un'Europa che sappia affrontare i temi dello sviluppo economico perché il mezzogiorno ha bisogno di una ripartenza per creare nuove opportunità di lavoro. Abbiamo bisogno di andare in Europa per discutere di un'agricoltura che sappia valorizzare i suoi prodotti, che sappia far arrivare i prodotti di eccellenza che abbiamo anche in questo territorio nei mercati dove ci sono i consumatori che possono permettersi il costo del Made in Italy. Abbiamo bisogno di un'Europa che sappia affrontare i problemi delle persone che vivono con fragilità. Parliamo di tanti ragazzi e tante ragazze, ma parliamo anche di tante persone anziane che oggi non hanno un'assistenza per poter vivere in modo dignitoso. Le famiglie spesso non possono permettersi il costo di una residenza sanitaria assistita e noi riteniamo che l'Europa deve saper scrivere di nuovo la carta fondamentale dei diritti degli uomini e delle donne e mettere in campo risorse per sostenere le famiglie nel momento in cui hanno maggiore bisogno.